Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me? Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te Perché l'amore che non c'era adesso c'è E questa sera abbiamo lanciato ufficialmente il nostro gruppo di musica live che dà spazio ad un repertorio cantautorale italiano con interessanti rivisitazioni e anche alla musica straniera. Una settimana fa sono tornata da un'esperienza bellissima fatta a Milano Marittima in cui sono arrivata tra i quattro finalisti del video festival live è il primo festival italiano per la discografia è alla sua diciannovesima edizione e ho avuto la possibilità di farlo perché c'è stata una prima tappa proprio a Bovalino che era la tappa regionale e ho avuto modo di confrontarmi lì a Milano Marittima con artisti provenienti da tutta Italia eravamo circa mille i partecipanti alla fine siamo arrivati in quattro per la categoria Made in Europe che è la categoria a cui appartengo io perché ho portato un brano in inglese che è Feeling Good, la versione di Michael Bublé and I'm feeling good I feel good for me Un applauso a Francesco Pochiero Giorgio Seminara Carmelo Gattuso Sono emozionata sono felice del traguardo raggiunto e comunque andrò carichissima per poter fare un'ottima performance e far valere ancora una volta e portare avanti il nome della Calabria ma soprattutto del mio paese di Bovalino ma mi sento di dire anche di gioiosa perché mi sento anche metà gioiosana grazie a tutti voi e spero mi sostegnate fino alla fine